Colpo di coda nel viaggio di Papa Francesco in Brasile, con una lunga intervista concessa a oltre 70 giornalisti in volo con lui da Rio de Janeiro, in cui non si è sottratto ai più delicati temi che hanno investito il Vaticano negli ultimi mesi, a partire dalla lobby gay denunciata in Vaticano. Essere gay non è un delitto, a differenza dal molestare i minori, premette e continua. Il problema non è avere queste tendenze, ma fare lobby, lobby di questa tendenza come le lobby d'affari, politiche o massoniche, questo è il problema più grave. Poi lo IOR, la banca accusata di riciclaggio e su cui è all'opera una commissione di controllo da lui incaricata. Il Papa non sa ancora se resterà una banca o diventerà un fondo, ma a prescindere dalla forma che prenderà, dovrà avere trasparenza e onestà. Bergoglio esprime anche una posizione netta su Monsignor Scarano, il contabile dell'Apsa arrestato per riciclaggio. Scarano, su difesa, avrebbe spedito al Papa un resoconto con rivelazioni su mandanti e coperture all'interno del Vaticano. Pensate che si è andato in galera perché era uno stinco di santo? Ha fatto male e la Chiesa gli darà una sanzione, ha precisato il Papa. Papa Francesco affronta anche il tema del divorzio che esclude di fatto numerosi fedeli dall'Eucaristia. Il Papa promette di riprendere il lavoro iniziato da Ratzinger per una soluzione alternativa ai processi di annullamento del matrimonio. Poi il ruolo della donna nella Chiesa, che Bergoglio aveva già denunciato essere poco valorizzato. Il Papa lamenta come manchi una teologia della donna. Si deve andare più avanti, dice, non si può capire una Chiesa senza donne attive.